Signori, dobbiamo preoccuparci della stabilità della prossima amministrazione comunale. Il centro-destra, la parola stabilità è sconosciuta al centro-destra, frammentato, diviso. Ma attenzione anche al centro-sinistra, dove hanno scelto, alcuni candidati, hanno scelto l'amministrazione comunale futura come luogo di battaglia, non per occuparsi dei problemi di Cerignola, ma per regolare i loro conti contro o pro Elena Gentile. Cerignola è in ginocchio, non può permettersi un'amministrazione litigiosa come quella vecchia di alcuni anni fa di centro-sinistra, l'amministrazione Valentino. Non può permettersi il cadavere del centro-destra e Cerignola ha una sola speranza, la coalizione del cambiamento. Usate bene questa matita.